Marco Viaggi è un punto di riferimento nel nostro paese per la capacità nelle sue proposte relative all'occupazione e al lavoro di mettere al centro la persona. Per questo motivo Milano città del lavoro lo onora con un premio che va a persone che si sono distinte nelle diverse attività lavorative e nei diversi ambiti ma sempre mettendo al centro i bisogni e l'interesse della persona. Quindi importante questo premio e importante in una città come Milano.